I casi di Covid-19 nel mondo hanno superato i 32 milioni. Le vittime sono ormai un milione. Per alcuni scienziati il virus sta diventando più contagioso. L'Unione Europea avverte che la pandemia è peggiore ora rispetto al picco di marzo in diversi paesi. L'OMS evoca il rischio che si arrivi a due milioni di morti. Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi e potrebbero volerci altre nove mesi prima di avere il vaccino, ha detto il direttore per le emergenze, Michael Ryan, rispondendo a una domanda nel briefing sul coronavirus. Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare questa cifra? Il momento di agire è adesso a Monito. La regione di Madrid, epicentro della pandemia in Spagna, estende a nuove zone le restrizioni a partire da lunedì, quando altri 160 mila abitanti potranno uscire dal proprio quartiere solo per lecarsi al lavoro. È assurdo, ci hanno prima costretto al lockdown e adesso possiamo prendere la metro in questo modo, siamo come Sardine, dove è la distanza di sicurezza. I dati sull'evoluzione del virus continuano a segnare una tendenza preoccupante anche in Israele dove nelle ultime 24 ore si sono contati oltre 7 mila nuovi contagi, mai così tanti dallo scoppio dell'epidemia. E il carnevale, più famoso del mondo, quello di Rio de Janeiro, è stato posticipato a tempo indefinito. Lo hanno reso noto le autorità brasiliane. Le scuole di samba di Rio hanno deciso di ritardare la sfilata che normalmente si sarebbe tenuta nel febbraio prossimo. Partecipo solitamente al carnevale, alle parate insieme alla mia scuola di samba. Quest'anno la sicurezza però è prioritaria, soprattutto per i più anziani e per le persone a rischio. Sono favorevole a posticipare il carnevale. Questo mentre il paese è alle prese con la seconda ondata di Covid-19.